Si sono concluse le vacanze per ben il 74% degli italiani che in questi giorni rientreranno nella routine quotidiana accompagnati però dalle grandi eccellenze ghenogastronomiche acquistate durante il proprio soggiorno tra le quali spiccano i liguri vino, olio e l'intramontabile pesto di basilico genovese DOP. Infatti più di 4 italiani su 10 rientrano in città con i prodotti alimentari tipici come souvenir del luogo delle vacanze che si classificano come i preferiti dell'estate 2019. A pesare sulle vacanze estive lungo tutta la penisola è stata un'estate pazza segnata da temperature elevate che la collocano tra le più calde dal 1800 ma anche dal maltempo che ha fatto partire a Senghiozzo la stagione turistica. Ma le stime liguri per il mese di agosto la confermano come meta favorita sia per il mare sia per la campagna con l'attesa complessiva nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere di circa 3 milioni di vacanzieri. E anche se tanti tornano al lavoro proprio in questi giorni non mancano i vacanzieri in partenza per il mese di settembre che oltre al mare sceglieranno la campagna dove è possibile seguire le tradizionali attività autunnali approfittando dei risparmi della bassa stagione. Tra tutti i vacanzieri solo il 19% torna dalle ferie a mani vuote ma le difficoltà economiche e una maggiore attenzione all'alimentazione spingono verso spese utili con i prodotti tipici che vincono su tutte le altre scelte. Secondo il presidente di Coldiratti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Riva Rossa sono sempre di più i turisti che scelgono vino, olio, olive, acciughe sotto sale, pesto e molto altro come ricordo della Liguria o come regalo.